Benvenuti a questo nuovo appuntamento con le strade della vita. Vedete scorrere dietro di me le immagini che si riferiscono al video di introduzione, allo speciale che abbiamo realizzato questa settimana in occasione della ventinovesima giornata del malato che si è celebrata giovedì 11 febbraio, solennità della Madonna di Lourdes. Il secondo speciale, il primo l'abbiamo realizzato per la giornata della povertà, è andato in onda sul nostro canale YouTube, Piacenza Tioci TV, vi ringraziamo per averlo seguito così in tanti. È stata l'occasione per approfondire questo tema con il professor Luigi Cavanna, con la dottoressa Michela Monfredo, con Itala Orlando e con la volontaria Elisa Guasconi. Ognuno dal proprio punto di vista, dal proprio spaccato, chi non avesse potuto seguire questo speciale lo trova comunque a disposizione sul sito della diocesi, ma naturalmente è anche l'argomento principale della puntata di oggi. Partiamo proprio dalle parole del Pontefice che ha voluto intitolare così questa giornata, la ventinovesima, la relazione di fiducia alla base della cura dei malati. Abbiamo voluto capire anche un po' dal punto di vista umano che cosa ha voluto dire per il personale medico quest'anno confrontarsi con una realtà così grave. È vero che il medico ogni giorno si confronta col dolore, con la morte, con la malattia, con il limite, con la fragilità, ma mai forse come in questo anno le dimensioni di questo fenomeno hanno un po' superato la capacità del singolo di sopportarla. Allora abbiamo proprio chiesto al professor Cavana, che davvero ancora ringraziamo per la sua disponibilità, di raccontarci un po' di questo tempo, di che cosa ci portiamo via e di come guardiamo avanti, per cui ascoltiamo questo dialogo. La ventinovesima giornata del malato, il discorso di Papa Francesco, come già vi dicevo, parla della relazione, la relazione di fiducia alla base della cura dei malati. Noi ne parliamo con il professor Cavana, grazie. Grazie, grazie a voi dell'invito. Il tempo che ci dedica e sappiamo che cosa vuol dire in questo tempo, sottrarlo un po' di tempo ai medici, però mi sembra che è così proprio importante invece far entrare nelle case di chi ci ascolta una figura come quella di un medico dopo l'anno che abbiamo passato e quello che stiamo ancora passando. Poco prima di accendere le camere noi dicevamo che è stato un anno non solo che non si dimentica, ma che rischia forse di avere delle conseguenze anche nel nostro modo di vedere la vita, le persone, la salute, il valore della quotidianità in un modo diverso. È vero, davvero ancora grazie dell'invito, mi fa piacere poter dare una testimonianza. Nel rapporto col malato, noi medici, ma gli infermieri, tutti coloro che hanno a che fare con i malati, sia i malati ricoverati in ospedale, sia i malati che vengono curati agli ambulatori o a domicilio, è fondamentale, io credo che, non vorrei dire delle frasi fatte, ma è fondamentale dare e mantenere la dignità al malato, perché quando si è malati e soprattutto se si è malati di malattie invalidanti, malattie che possono avere un andamento cronico, che ci rendono dipendenti dagli altri, dai nostri familiari o dagli infermieri che ci vengono a casa o dall'infermiera, dal medico ricoverato. Quindi quando io sono malato e ho bisogno, beh, vorrei incontrare delle persone che mi assistono, che mi curano, che mi rispettano e che mi fanno sentire una persona. Secondo me è questo il punto molto importante, che poi per chi cura, per me, che io faccio il medico, ne ha un ritorno molto importante in termini di gratificazione. Col malato si crea un rapporto a volte molto intimo, molto particolare, molto forte, proprio basato sul rispetto reciproco. Il rispetto non è qualcosa di freddo o di una firma su un consenso informato, è qualcosa di molto più profondo. Il rispetto vuol dire fare di tutto per quel malato. E questo è il nostro dovere di medici, di infermieri, di tecnici. Ma fare di tutto vuol dire, come dicevamo prima, anche sentire, quando noi pensiamo di non farcela, sentire altri colleghi, informarci. Oggi è facile, si può comunicare con tutto il mondo, sapere che qualcuno sa qualcosa più di noi. E quindi chiedere, informarci, confrontarci, proprio per essere utili il più possibile al malato che abbiamo di fronte. Questo non è però così scontato, perché a volte, appunto, c'è anche un po', lo dice anche proprio il Papa nel suo discorso, c'è questo pericolo di scivolare un po' nella, come dire, nell'autoreferenzialità, per cui è molto importante questa cosa che lei sta dicendo, di cercare il confronto. Anche lei quest'anno ha messo subito un po' in rete la sua esperienza, l'ha messa a disposizione subito. Grazie di questo, io ci pensavo, perché a volte il fatto di mettere in rete la modalità più, diciamo, più codificata, più strutturata in medicina, il mettere in rete è riuscire a pubblicare una ricerca su una rivista scientifica censita, che sia censita poi dai motori di ricerca. ma per fare questo occorre tempo, occorre tempo che non avevamo, non avevamo, perché a marzo-aprile non avevamo tempo di scrivere, avevamo tempo di studiare, di leggere quello che scrivevano i cinesi, perché erano i primi che avevano avuto Covid. Ma il fatto di essere riusciti attraverso i media, attraverso la stampa, la televisione, a far conoscere ciò che facevamo, secondo me è stato, ma lo dico senza presunzione, molto utile. Sto riuscendo adesso a scrivere le ricerche scientifiche, ma è passato quasi un anno, quindi tutto è molto velocizzato oggi e se c'è un'esperienza positiva che viene messa in rete, magari viene vista da altri colleghi o da altre organizzazioni sanitarie, credo che sia molto importante. Poi c'è comunque il confronto, anche se non passa il filtro della comunità scientifica che è la via più ortodossa, ma quella è una via comunque, anche se è velocizzata, è una via lenta, troppo lenta a fronte di un evento così straordinario come è stato Covid. Cos'è la cosa che l'ha fatta più soffrire quest'anno? Ma sono tante le cose, io credo che la cosa che, almeno personalmente, che poi magari non è la più importante da un punto di vista dell'importanza, però quella che mi ha fatto più così, che mi ha messo più a disagio e anche soffrire, sì, è il fatto che molte persone, quando venivano ricoverate, erano sole rispetto ai loro affetti, molte persone poi erano malate gravemente, morivano senza avere nessun contatto con i loro familiari, con i loro cari, con le persone, questo è la cosa, secondo me, la cosa più disumana, ma lo dico senza così, senza volere fare un discorso troppo triste, ma immaginiamo che una persona, ma a qualsiasi età, ma soprattutto persone anziane, diciamo, il termine è pesante, strappate dalla loro casa, da persone che non erano più persone, perché noi eravamo vestiti come, con tute, con dei copri viso, quindi avevamo l'aspetto, sembianze disumane e ricoverato in un reparto assistito da persone che non parlavano, sì, però avevano sembianze davvero strane, immaginiamo una persona anziana, abituata a vivere nella sua casa, che viene portata in un reparto d'ospedale, che fa fatica a respirare, è circondata da questi operatori che eravamo noi e non riesce più a vedere della moglie, né un figlio, né un parente, beh, io credo che sia qualcosa davvero di… che dovremmo porci rimedio, ecco, sicuramente si dirà, non è la cosa più rilevante, perché l'importante è sopravvivere, è guarire, ma il problema è che molti non sopravvivevano, il problema è che molte persone morivano in questo dramma di mancanza di una persona cara, vicino, e quindi secondo me su questo aspetto che anzi viene abbastanza poco considerato, invece credo che abbia una grande considerazione, non mi è capitato più di una volta di incontrare al mattino oppresto quando arrivavo delle persone che cercavano il loro congiunto, che era morto, non sapevano dov'era, e quindi questo, ma non è una critica alla nostra organizzazione perché in altri posti era ancora peggio, è proprio Covid, malattia infettiva, quindi contagiosa, quindi trasmissibile, che ha imposto al sistema di evitare i contatti con i parenti e di evitare che i parenti andassero dentro l'ospedale, però anche questo noi dobbiamo cercare di porci rimedio, noi dobbiamo mantenere una dimensione umana, altrimenti non facciamo bene il nostro lavoro, ecco. Credo che forse mai come quest'anno si sia resa evidente la differenza tra il curare e il prendersi cura. Sicuramente, molti malati quando eravamo sul territorio a casa, anche malati in condizioni severe, serie, non volevano essere ricoverati, ma proprio per paura di morire lontano dai loro affetti, quindi questo metteva davvero in difficoltà, eppure sono tanti anni che lavoro in ospedale e il prendersi cura deve considerare anche questo aspetto. Poi è chiaro che molti hanno paragonato a Covid, ad una guerra, ma probabilmente era molto simile ad una guerra, eravamo così in trincea, si andava a letto alla sera con l'incertezza di essere ancora a lavoro il giorno dopo, adesso non perché si moriva durante la notte, ma perché si aveva paura di essere malati, e poi chi si ammalava, adesso non è la mia situazione personale che ho avuto la fortuna di non ammalarmi, ma sentivo anche tanti colleghi, infermieri che dicono, ma mio Dio se mi ammalo, poi dopo voi restate senza una persona, ne sostituite, quindi c'era anche il pensiero ammirevole di dire io mi ammalo, o non più di pensare di curarsi, diceva anche il reparto poi restate in meno, quindi abbiamo vissuto qualcosa che non so, forse negli anni a venire riusciremo a rivisitare in modo un po' più razionale e in modo un po' più distaccato, e ancora adesso un po' troppo ci siamo ancora pienamente dentro, ma quello che abbiamo vissuto io credo che a memoria d'uomo non si sia mai vissuto prima, si parla dell'epidemia, ci sono sempre state, sì questo è vero, però Covid è stato qualcosa di veramente pesante. Noi giornate del malato, giustamente parliamo del malato, ma quest'anno il personale sanitario, quindi dal medico, gli infermieri, ma anche ai non sanitari, sono stati veramente sottoposti, come diceva lei, non soltanto allo stress fisico molto intenso, ma anche psicologico, morale, spirituale, in qualunque modo poi venga inteso questo, indipendentemente dalla fede o meno, ma tutti i giorni doversi confrontare con la morte, sia numericamente, sia come dicevamo prima qualitativamente così difficile. È vero, ma di fatto quello che secondo me ci ha aiutato anche a superare questo momento è a, diciamo così, diciamolo pure, non dico solo una parola forte, sopravvivere, nel senso di dire, di essere presenti, di tornare a lavorare sempre così, con una certa anche voglia di incoraggiare chi era malato, perché chi era malato, anche se avevamo la tuta, ed eravamo, sembravamo astronauti, però si sentiva incoraggiato, leggeva nei nostri occhi ciò che volevamo dire, oltre che con le parole. Quindi credo che un aiuto sia stato quello di aiutarci l'uno con l'altro, è da dire quasi la umana solidarietà, in cui molti operatori, molti medici, molti infermieri alla fine ci si stringeva quasi assieme per dire, assieme supereremo questa catastrofe, e ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta in un modo o nell'altro, ce l'abbiamo fatta e però, ecco, la sofferenza che ognuno poi ha vissuto individualmente, quello resta una cosa molto molto individuale, ci ha aiutato il condividerla, il condividerla, il parlare insieme ci ha sicuramente aiutato, perché diventava poi quasi un peso che dividevamo e quindi questo ha aiutato a, così, anche noi personalmente, a superare la nostra angoscia, ecco. Come si esce da tutto questo, umanamente, come medici? Mi sembra quasi dire che il Covid è un po' un discrimine, no? C'è un primo e c'è un dopo probabilmente, non siamo più gli stessi. O no? Perché continuiamo a chiederci, no? Ma io credo che, sentendo che anche tanti altri colleghi di diversa estrazione, di diverse città, che però hanno avuto Covid come l'ha avuto Piacenza, che Piacenza se ne è parlato forse meno di Bergamo, ma non è che l'abbiamo avuto meno di Bergamo, Piacenza, le nostre zone, anche la nostra campagna o le colline di Piacenza. Comunque confrontandomi anche con, ad esempio, con colleghi del Veneto, di Padova o della Lombardia che ci si trova, ma anche del sud adesso, della Sicilia. Io sento dire da più parti, ascoltando e senza, ascoltando soprattutto ricorrere questa frase, dopo Covid non siamo più gli stessi, cioè ci ha cambiato, ha cambiato, non siamo più gli stessi in un modo o nell'altro, ha cambiato, non dico i rapporti, però ha cambiato tante cose, anche in ambito oncologico, con la riduzione di tanti interventi chirurgici, con la riduzione degli screening nei primi mesi, i primi sei mesi, potremmo dire, dello scorso anno, sicuramente ha creato tantissimi problemi che non sono ancora emersi nella loro, così, drammaticità e completezza, però sono destinati ad emergere, quindi io credo che Covid ci abbia cambiato. Ci sono dei verbi molto significativi, molto efficaci che usa il Papa nel suo messaggio, fermarsi, ascoltare, stabilire una relazione diretta e personale con l'altro, sentire empatia e commozione per lui, lasciarsi coinvolgere, che sono da una parte verbi bellissimi, importantissimi, così come dall'altra parte capirei anche, come dire, la resistenza quasi, no, di un medico a metterli in campo, perché vorrebbe dire anche trovarsi completamente indifeso di fronte a questa stessa sofferenza, forse. Questo è vero, però io sono molto d'accordo sul fatto di lasciarsi coinvolgere, perché a volte, diciamo che la freddezza e la razionalità va molto bene se io devo compiere un atto tecnico, cioè tagliare via il tumore, non mi deve tremare la mano, non devo avere tentennamenti, ma un conto è poi rapportarmi con la persona malata a cui è stato tolto il tumore, o chirurgicamente, o con i chemioterapici, o con le radiazioni, cioè la persona non è l'organo malato, la persona è una persona che è molto più complesso, quindi il medico, almeno nella mia esperienza personale, ho sempre avuto, che può essere anche un dato non positivo questo, mi rendo conto, ma ho sempre avuto l'atteggiamento di essere coinvolto, ma al punto tale di dire ma abbiamo fatto tutto il possibile per questa persona, quindi di rimettermi in discussione molto frequentemente, a volte alcuni colleghi mi dicono ma non ti fidi, ma io la mia risposta non mi fido neanche di me stesso, ma sono sincero, nel senso che ritorno sui miei passi, perché a volte è troppo importante, diciamo, poter fare qualcosa per un malato, soprattutto quando le cose non vanno bene, se non vanno bene è giusto essere coinvolte al punto tale di dire, torniamo al punto che dicevamo prima, di sentire altri, di sentire altri e di rivedere criticamente, oggi è molto facile, con le ricerche scientifiche pubblicate su PubMed, in pochi minuti possiamo capire se c'è qualcosa di nuovo per i pazienti che abbiamo di fronte a cui sembra che le nostre cure siano non più efficaci, quindi uno dice, da un punto di vista il vendico legale può aver fatto tutto, ma questo tutto non è sufficiente, il fatto di mettersi in discussione, di mettersi al posto del malato, di essere coinvolti ti fa fare magari quel passo in più che a volte può essere molto importante, io vorrei che fosse fatto questo, se io fossi in un letto d'ospedale, vorrei trovare dei medici così, ma non che facciano i miracoli, i miracoli noi non li facciamo, ma che non si fermano di fronte né al primo né al secondo né al terzo ostacolo, cercano di superarlo, ma ovviamente con razionalità, con buon senso, ma anche con una componente di sentimento di dire proviamo a vedere se ce la facciamo ancora una volta. Parlavamo poco prima di accendere le camere di quando lei studiava medicina, per cui di alcune figure di riferimento mediche che ha incontrato e che tanto le hanno lasciato, non soltanto didatticamente parlando, ma proprio sull'approccio al malato, sul modo di vivere la professione in tutti questi anni di professione. È cambiato il suo modo di intenderla e di viverla? Ma guardi, io penso che le persone che troviamo, poi chiamiamo maestri, ma i maestri che cominciano davvero fin dall'elementare, che hanno un grosso peso sulla nostra formazione, su quello che saremo domani. Per quello che a volte penso quanto siano importanti gli insegnanti che fin da bambini ci insegnano tante cose, ci insegnano a vivere nella vita, ecco, nel mondo. Chi abbiamo incontrato da studenti o da giovani medici che ci ha insegnato non solo la semiotica, cioè lo studio di come ascoltare il cuore, visitare il fegato, oppure anche la tecnologia, di come fare le ecografie, che poi è un crescendo. Ma soprattutto chi ci ha insegnato, gli esempi che mi sono rimasto, chi mi ha insegnato ha il rispetto del malato, quasi una... ricordo alcuni medici, anche non necessariamente medici anziani, medici anche giovani, però un rispetto quasi quasi sacro del malato, di tutela, anche quando da un lato siamo spinti alla ricerca, quindi alla sperimentazione, però sempre con un rispetto profondo del malato. Questo è davvero molto molto importante e quindi gli esempi che abbiamo avuto come studenti e come giovani medici sono davvero molto importanti. In questi anni cosa è cambiato? È cambiato tanto da un punto di vista tecnologico e dell'acquisizione di nuove conoscenze, tantissimo dal punto di vista, soprattutto negli ultimi anni, delle conoscenze di biologia, anche delle cellule, delle malattie d'organo. Rimane però immutato quello che è il rapporto col malato, quindi sia l'infermiere, sia il medico, si rapporta sempre con una persona che è in un momento di difficoltà e di bisogno. Cioè noi tutti possiamo avere tante difficoltà nel corso della vita, però quando si è malati, ma dico malati con una malattia seria, impegnativa, come poi sono malattie del cuore o del cervello o un tumore o un intervento chirurgico, quando si è dipendenti da altri, se è in condizione che di una certa inferiorità, secondo me la capacità del sistema, non dico del medico, ma del sistema è di togliere questa sensazione di inferiorità e allora riusciamo a fare un buon lavoro, credo. Direi che sarebbe già, questa è una conclusione sulla quale lasciarci riflettere per tanto, però le chiedo un messaggio, un pensiero a quei giovani, sicuramente tanti, che hanno voglia di iscriversi alla facoltà di medicina o di scienze infermieristiche, che sentono il desiderio di intraprendere questa professione anche proprio così come ci sta descrivendo lei, no? Ma io il massaggio che posso dare sia a coloro che vogliono così avvicinarsi alla cura delle persone, che può essere infermieristica, medicina, fisioterapia, riabilitazione, credo che davvero il lavoro con la professione di poter curare o comunque rispondere a un bisogno fisico, che non è mai solo fisico, ma è fisico e psicologico, di una persona malata sia uno dei lavori più belli del mondo, ma sono un po' parte in causa in questo, però lo dico quasi in modo più oggettivo, più distaccato, perché effettivamente quando una persona è in difficoltà fisiche, è anche in difficoltà psicologiche, perché il male fisico, quando una persona ha un male fisico non può stare bene psicologicamente, ovviamente, mi è sempre piaciuto molto e faccio leggere spesso e rileggo io stesso spesso, quello che è la prefazione di un dei testi di medicina interna più diffusi in tutto il mondo, che è l'Harrison, principio di medicina interna, tradotto in tantissime lingue, dal giapponese al cinese, ovviamente l'italiano, dalla prefazione, dice delle cose bellissime questo testo, uno mi è rimasto impresso, dice, e ripete questa frase grossomodo, il medico deve avere lo stesso rispetto per l'eroe stoico, di che non si lamenta mai, quanto per il vagabondo lamentoso, questo secondo me c'è dentro tutto, cioè la persona che magari il vagabondo lamentoso, sono anglosassoni questi, non sono latini che noi siamo più sentimentali, però è veramente molto educativo, cioè il rispetto sia di chi magari non si lamenta, che magari è importante, quanto della persona umile che è sofferente e che magari è un vagabondo, quindi questo è un po' la sintesi. E continuiamo a parlare della giornata del malato, lo facciamo con Italia Orlando, grazie per essere in studio con me, responsabile del servizio di pastorale della salute nella nostra diocese, abbiamo già detto anche col professor Cavana delle parole così forti, di questo messaggio così forte e così umane, questo fermarsi, questo ascoltare, questo coinvolgersi, mi piace molto questo verbo, coinvolgersi nella vita delle persone, è una cosa che a volte ci fa anche così paura, perché l'essere coinvolti ci chiama veramente in causa tutti, non risparmia nulla di noi. Infatti questa parola fa subito il paio con responsabilità, nel momento in cui ti fai coinvolgere, quindi entri in questa relazione in un certo senso e collegandoci anche al termine fraternità che ricorre come una parola chiave di questo messaggio, nel momento in cui ti fai coinvolgere diventi responsabile della persona che hai davanti in qualche modo, tanto più se collochiamo tutto ciò all'interno di una relazione di cura e quindi c'è qualcuno che ha bisogno, che chiede aiuto, vari tipi di aiuto, può chiedere ascolto, può chiedere guarigione, può chiedere una consolazione, può chiedere vicinanza, può chiedere aiuto materiale e allora la nostra risposta diventa veramente una responsabilità. La giornata del malato ha sempre questa caratteristica, siamo arrivate alla ventinovesima giornata, è stata istituita nel 92 da papà Giovanni Paolo II ed è veramente una giornata propizia, una giornata che non va persa così di vista, non è soltanto una delle solite ricorrenze, il calendario è pieno di giornate che ci ricordano qualcosa, però è una giornata questa che ha un valore particolare, oltre alla memoria della Madonna di Lourdes a cui siamo un po' tutti devoti, io mi ricordo quando ero giovane, un adolescente, andavo alla messa del malato appunto l'11 febbraio e c'erano molti anziani malati che venivano in chiesa accompagnati anche da noi ragazzi perché ricevevano l'unzione degli infermi. A me risultava sempre un po' strana questa celebrazione, però l'intensità con cui la si viveva mi ha sempre lasciato un segno e quindi anche da adolescente, da giovane, quando mi sono dedicata al volontariato sono stati proprio gli anziani, le persone che comunque erano più in difficoltà nella vita, nel muoversi così, le persone con le quali io stringevo questi rapporti di amicizia solidale, diciamo così, e poi anche per lavoro e adesso con questo ruolo nella pastorella della salute mi ci ritrovo dentro pienamente, ma è una dimensione importante perché è una dimensione della vita che non riguarda soltanto chi è malato in quel momento della sua vita o in una lunga fase anche dell'esistenza, chi è malato, chi è fragile, chi è più vulnerabile, è una dimensione che appartiene a tutti, a volte ci appartiene perché lo viviamo direttamente su di noi, la malattia, la fragilità, altre volte perché ce ne dobbiamo fare carico, perché ce ne prendiamo cura, quindi siamo tutti coinvolti come singoli e come comunità. A proposito di questo Itala, anche come ufficio, come servizio di pastorale, di pastorale della salute, quali sono le emergenze, ma anche proprio le domande che vi sembra di aver potuto intercettare in questo tempo, in questo anno, in modo particolare, magari anche rispetto ad altri? Guarda, la domanda che è ricorsa più spesso è una richiesta di formazione, cioè da parte di tante persone che hanno bisogno di, vogliono imparare o comunque vogliono fermarsi a riflettere, a capire meglio come si fa a stare in relazione con la persona che ha bisogno, con il malato, con il sofferente, come si fa a essere di consolazione, cioè in questi ultimi giorni anche attraverso questa iniziativa che è partita, della proposta di percorsi di gruppi di auto mutuo aiuto sul lutto, opere i familiari che si prendono cura di loro cari in difficoltà, cosiddetti caregiver, molte telefonate che sono giunte a noi ci hanno però chiesto questo, ma farete della formazione? Perché noi abbiamo sentito parlare degli operatori della consolazione oppure siamo ministri straordinari dell'eucaristia, però quando entriamo a casa di un malato come ci dobbiamo comportare? Come si sta in una relazione, come dice il Papa, di fiducia? Ecco, quindi questo bisogno di formazione è una bella richiesta, vuol dire non essere semplicemente istintivi, non pensare di essere già pronti a tutto, di padroneggiare le situazioni, ma vuol dire avere consapevolezza che la relazione di fiducia è qualcosa che si costruisce, è qualcosa a cui si deve prestare attenzione, a cui ci si deve orientare un po' con tutti noi stessi. E quindi lo faremo. Vuol dire anche volerci stare e non è così scontato, la sofferenza spaventa, avrebbe forse più voglia di scappare che non di stare. Infatti, infatti non bisogna correre il rischio di considerare tutto ciò che riguarda la salute e la cura soltanto compito di esperti. In qualche passaggio, credo, non so se delle note di pastorale della salute, che l'ufficio nazionale della pastorale della salute è emanato qualche anno fa, ma forse lo riprende anche il Papa, si dice proprio che la pastorale della salute non è accessoria, ma è proprio parte integrante della vita pastorale della comunità, perché la Chiesa ha come missione quella di stare vicino e di stare vicino soprattutto ai più deboli e ai sofferenti, quindi è centrale. Poi naturalmente non posso che riconoscere che si potrebbero fare molte cose e ne stiamo facendo poche e come ufficio di pastorale spero che possiamo essere anche più presenti, più propositivi, però certamente non è accessorio e quindi è anche una grande responsabilità quella che ci siamo assunti come gruppo di pastorale e sentiamo forte la richiesta da parte delle persone, dei cristiani, delle comunità, delle nostre comunità. Grazie Itala per questa testimonianza, naturalmente vi ricordiamo che si stanno proprio per chiudere in questi giorni le iscrizioni per i gruppi di auto.aiuto e naturalmente vi daremo conto nel caso questi corsi per riuscire a diventare operatori della consolazione si riescano poi a concretizzare, perché se no abbiamo capito che è un interesse forte che c'è, quindi cercheremo di dare seguito a questa richiesta. Grazie. Grazie, grazie a te. Ed ora ascoltiamo il commento al Vangelo di questa ultima domenica del tempo ordinario prima di iniziare il tempo di Quaresima e Pasqua e ascoltiamo e ringraziamo per averci accompagnato fino a qui il diacono Giovanni Marchioni. La prima parte del Vangelo di oggi ci presenta un lebroso che contro le disposizioni della legge si avvicina a Gesù e lo supplica in ginocchio di essere purificato. Non gli chiede di essere guarito, ma di essere purificato, cioè di poter tornare nella comunità civile religiosa e religiosa del suo tempo. Di fronte alla sua richiesta Gesù si commuove, stende la mano, lo tocca e lo guarisce. Ogni azione di Gesù ha un messaggio. Gesù lo lascia avvicinare e lo tocca. È il capovolgimento dell'idea di Dio. In Gesù il Signore non è come lo immaginavano i farisei, cioè separato, lontano da chi è impuro o peccatore. Egli non solo non rifiuta i lebrosi, ma li accarezza, perché in ogni uomo vede un figlio. E per un figlio c'è sempre il perdono, c'è sempre una possibilità nuova. Per Gesù la luce è sempre più forte dell'oscurità. se si apre una finestra del resto, di una stanza illuminata, non è la tenebra che entra, è la luce che esce. Per questo, come ogni lebroso della storia, posso dire, sì Signore, ci sei sempre tu a far luminosa la mia notte, a tendermi una mano che sa d'amicizia. Gesù, dice il Vangelo, sentì compassione. Il messaggio è chiaro. Di fronte alle richieste di aiuto, il discepolo, quindi anche noi, come il Maestro, ascolta sempre il cuore. Allora rendimi capace, Signore, di incontrare le persone gettando in ogni loro fatica il seme della speranza e la gioia della vita. Dopo averlo guarito, Gesù proibisce all'ebroso di divulgare la notizia. Perché? Da molti anni il popolo di Israele attendeva il Messia, cioè un re, uno che avrebbe realizzato grandi prodigi. E uno dei segni della sua presenza, come dice il profeta Isaia, sarebbe stata proprio la purificazione dei lebrosi. Il fatto è che solo dopo la Pasqua si capisce in che senso Gesù è il Messia. Non il dominatore, ma il servo di tutti, colui che si affida al Padre e indica, percorrendola, la via dell'amare sempre e subito, fino alla croce. Donami, Signore, un cuore puro, che nel servire non cerchi se stesso, e un cuore povero, che sappia guardare non tanto l'amore che ha donato, quanto piuttosto quello che può ancora donare. Il lebroso guarito, nonostante la proibizione di Gesù, corre a raccontare quello che gli è accaduto. Perché? Marco scrive il Vangelo dopo la morte e resurrezione di Gesù. Ormai è giunto il momento di proclamare a tutti che Gesù è il Messia. E a chi è affidato questo compito? L'Evangelista risponde a chi ha fatto, come il lebroso, guarito, l'esperienza della salvezza ottenuta nell'incontro con Gesù. E allora, Signore, scomodati anche per me. Vieni a cercarmi, a chiamarmi. Invadi la mia vita e prendimi per mano. Con te sarò un uomo libero, un uomo salvato. Un ultimo dettaglio. Il Vangelo dice che Gesù non poteva più entrare in una città, ma se ne stava fuori, in luoghi deserti, e venivano a lui da ogni parte. Prima era il lebroso che non poteva entrare nei villaggi. Ora è Gesù che ha scelto di vivere la condizione dei lebrosi, di tutti quelli che gli uomini considerano lebrosi. E allora aiuta anche me, Signore, ad essere una semplice carezza, affinché il sorriso si posi di nuovo sulle piaghe di chi soffre, e sulle rughe di ogni mio fratello. Così sia. Come dicevamo, lanciando il servizio di commento al Vangelo, inizia da domenica prossima il tempo di Quaresime Pasqua. Mercoledì ci sarà il rito delle ceneri. E noi, come abbiamo fatto prima dell'apertura del Tempo di Avvento, ascoltiamo Don Paolo Cignatta, vicario per il coordinamento degli uffici pastorali, che ci illustra un po' come seguiremo questo percorso, come le comunità pastorali insieme potranno seguire questo tempo. Vedete alle mie spalle scorrere le immagini dell'opera di Chagall, che sarà quella che caratterizza questo tempo, lo sapete. Nei tempi forti di Avvento e Quaresima scegliamo anche un'immagine unica che verrà esposta all'esterno delle nostre chiese per dare questo senso di unità. Ovunque ci capiti di andare a messa, ovunque ci capiti anche di camminare e di passare, sappiamo che tutte le comunità stanno vivendo questo tempo forte. Allora, ci facciamo spiegare un po' da Don Paolo Cignatta come vivremo questo tempo, come è già accaduto in Avvento. Molti supporti saranno disponibili sul sito, ci saranno diversi supporti video. La novità di quest'anno, molto importante, che Don Paolo cita al termine del suo intervento, sono gli esercizi spirituali virtuali secondo il metodo ignaziano. Già spiega in parte Paolo, Don Paolo Cignatta. Io vi ricordo, per chi volesse seguirli, tutto poi è naturalmente indicato con precisione sul portale della Diocesi, di capire qual è il momento della giornata in cui ci si può prendere mezz'ora, avere la Bibbia, un foglio, un quaderno, una penna, avere l'elenco dei brani che saranno commentati da Maria Bucciotti, che ci guiderà in questa esperienza, in modo da essere pronti a partire e dedicare questo tempo all'inizio, magari o alla fine della giornata, per gli esercizi spirituali. Intanto ascoltiamo Don Paolo Cignatta. È proprio vero che la nostra vita è fatta di incontri, di incontri riusciti, di incontri mancati, di patti, di accordi, di leggi che regolano la nostra esistenza. Potremmo dire di alleanze, alleanze piccoli e grandi che danno spessore alle nostre giornate, alle nostre scelte, alla nostra vita. È necessario vivere di patti, di alleanze, di regole, proprio per custodire il dono che l'alleanza stessa, che il patto stesso custodisce. Ma è esperienza di tutti noi non sopportare a volte l'alleanza, non sopportare a volte i patti e le regole, perché le percepiamo come una menomazione della nostra libertà, un di meno per la nostra felicità. E allora è comune esperienza di tutti gli uomini venire meno a questi patti, a queste alleanze, in nome della nostra libertà. E continuamente queste alleanze, questi patti, abbiamo bisogno di ridirli, di ricostruirli, di ritrovarli. Questa è la storia dell'uomo, ma appunto questa è la storia anche di Dio con l'uomo. E il cammino di questa Quaresima ci prende per mano e ci accompagna proprio a riscoprire le parole dell'alleanza, a riscoprire i luoghi dell'alleanza, a riscoprire i personaggi dell'alleanza biblica che si pongono come simbolo anche della nostra stessa esperienza di alleanza. Il titolo della Quaresima 2021 è Berit, è proprio la parola ebraica che dice alleanza. Immediatamente questa parola alleanza ci fa tornare alla mente dei patti di guerra o di pace, ma se riusciamo a farci prestare questa parola dal lessico comune e lo riportiamo a livello esistenziale, a livello di fede, scopriamo che l'alleanza è primariamente e soprattutto un incontro, un incontro che è sempre nuovo. Ed ecco il sottotitolo Berit, un incontro sempre nuovo, l'incontro che il Signore fa con il suo popolo, l'incontro che il Signore fa con ciascuno di noi. E allora nelle prime letture del periodo di Quaresima scopriamo delle figure che sono state paradigmatiche proprio dell'esperienza dell'alleanza stessa. La prima settimana incontriamo da subito Noè, poi incontreremo Abramo, Isacco, Mosè, incontreremo l'esperienza del popolo di Israele che infranta la sua alleanza farà l'esperienza dell'esilio. Incontreremo un'alleanza che viene scritta nella stessa creazione, nel cosmo, incontreremo un'alleanza iscritta nei rapporti, un'alleanza iscritta sulle tavole della legge, un'alleanza che arriva da dove magari noi non ci saremo mai aspettati e un'alleanza che è scritta dentro il nostro cuore. Ecco il percorso che ci apprestiamo a vivere in questo tempo di Quaresima. Cinque settimane che ci conducono alla Settimana Santa, cinque luoghi, cinque tempi per riprendere in mano i fondamentali della nostra fede. Questo percorso ha il suo culmine appunto nei giorni della Pasqua di Gesù, nei giorni di Gerusalemme, dove in modo definitivo e totale viene sancita questa alleanza tra Dio e il suo popolo. Ogni settimana saremo accompagnati da parole che dicono questa alleanza. Ogni settimana saremo chiamati a verificare la nostra fede. E tutto questo perché noi siamo certi che il Signore non viene mai meno al patto che ha stipulato con ciascuno di noi, come un sigillo che è stato voluto, desiderato da Dio sulla vita di ciascuno di noi. Di settimana in settimana vivremo appunto tanti aspetti che fanno parte dell'alleanza, la prova, la fedeltà. E noi accompagniamo questo cammino innanzitutto con la parola del Vescovo che ogni settimana ci raggiungerà con un video per approfondire la prima lettura e la parola di quella settimana. Poi sono a disposizione in tutte le parrocchie ogni domenica un piccolo fascicolo che viene distribuito e che accompagna il cammino personale dentro il tempo della Quaresima. Non di meno quest'anno proporremo, in modo un po' originale almeno, l'esperienza degli esercizi spirituali online di stampo ignaziano che sono proposte a tutti gli adulti della nostra diocesi e che apriranno il tempo della Quaresima. Come sempre avremo anche un'immagine di riferimento che è il sacrificio di Isacco di Chagall, il suo commento, il video commento all'opera con le parole tratte dal testo di Don Giuseppe Lusignani e dentro il fascicolo per chi anima il cammino della Quaresima nelle nostre parrocchie avremo gli approfondimenti teologici, gli approfondimenti biblici e anche un approfondimento da parte di Matteo Corradini, ebraista, sul significato della parola alleanza. E in questo tempo la diocesi proporrà anche due incontri quaresimali che raccontano proprio dell'alleanza come esperienza aperta anche alla città dell'uomo. Saranno due momenti in cui riscopriremo insieme cosa vuol dire vivere l'alleanza dentro questo nostro tempo. Come sempre tutto il materiale della Quaresima lo troviamo sul sito della nostra diocesi. Come sempre la Quaresima avrà un taglio missionario di sensibilità verso le azioni missionarie e anche verso alcune specifiche opere missionarie. Come sempre troviamo i sussidi per il cammino degli adulti, dei ragazzi e dei giovani a disposizione delle nostre parrocchie. La nostra puntata termina qua, io vi ringrazio per essere rimasti con noi, vi ricordo che appunto sul portale della diocesi trovate ancora l'intervento di Don Paolo Cignata che ci spiega, ci illustra, per cui se volessimo anche riascoltarlo per capire meglio come vivere questo tempo, trovate anche la trasmissione integrale che è andata in onda su Piacenza di Occesi TV, così come gli interventi separati in occasione della giornata del malato che magari possono servire comunque ancora di riflessione perché è un tema che naturalmente non passa e non finisce. Vi ricordo ancora che c'è qualche margine di tempo per iscriversi agli esercizi spirituali che credo siano veramente un'esperienza unica, importante e che non deve spaventare solo per il nome, gli esercizi spirituali, già peraltro gli scritti sono tanti. Abbiamo detto che in questo anno un po' il tempo lungo di silenzio, di solitudine ha aiutato e ha invitato a fare un po' di introspezione perché magari questi esercizi ci possono aiutare a fare ordine in quei pensieri, quelle emozioni, quei sentimenti che sono emersi durante questo tempo. Vi auguro una buona settimana, ci vediamo sabato. Grazie a tutti.